Da una parte Giuseppe Buzanca che vuole continuare ad occupare contemporaneamente le poltrone di sindaco di Messina e deputato regionale fino alla fine dei mandati, dall'altra Antonio D'Aquino, primo dei non eletti nel 2008, che continua a sperare di tornare a sedere all'Assemblea regionale siciliana anche per quel poco che sembra essere rimasto alla legislatura in corso e dopo le sentenze della Corte Costituzionale che ha sancito l'incompatibilità del doppio incarico, adesso l'elemento nuovo è la decisione della Commissione Verifica a poteri dell'Ars che ha bocciato ancora una volta Buzanca. 38 voti contrari alla doppia poltrona, 3 favorevoli, 1 astenuto. Secondo D'Aquino, che nel frattempo è transitato nelle file del Movimento per l'Autonomia lasciando il PDL, un voto che ha restituito legalità e prestigio al Parlamento siciliano. Ed è tra le righe il fatto che potrebbe restituire a chi ha comunicato soddisfazione soprattutto il posto in aula. E per Buzanca è già iniziato intanto un nuovo conto alla rovescia, 10 giorni per decidere quale carica tenere, secondo quanto imposto dall'Ars, dovrà optare tra i suoi ruoli di sindaco o deputato regionale.